Nico Balice anche il tempio alla Sagra del Pesce per mangiare il pesce fritto. Sì, sì, vero. Buonasera a tutti. Questa è la dimostrazione, l'affluenza di questa sera, la dimostrazione che due anni di pandemia non hanno affatto intaccato una tradizione di decenni. Oggi è bello vedere tutta questa gente alla Sagra del Pesce perché vuol dire che è una tradizione ancora viva e che è ancora pieno di turisti a Termoli. Ci auguriamo che sia sempre così, anzi che aumentino sempre di più. Questa serata, questa festa chiuderà l'estate 2022 Termolese? Chiuderà l'estate nel suo senso più stretto, poi ci sono ancora tanti eventi a settembre e speriamo che siano sempre partecipati. Ma senti ti piace più il pappone o il pesce fritto? Personalmente preferisco il pappone, però non disdegno il pesce fritto. Quindi ieri eri qui a mangiare il pappone? Sì, sono stato qui, ho aspettato e ho mangiato un buonissimo pappone. Va bene, grazie. Grazie a te.